Dopo decenni di attesa si riparte. Il 12 febbraio verranno consegnati i lavori per il ripristino della Galleria della Guinza sulla Fano Grosseto in un unico senso di marcia in direzione Marche Umbria. Un appalto da 94 milioni di euro aggiudicato dal Consorzio Stabile Europeo Costruttori che adeguerà due corsie, i 6 chilometri di galleria e i 4 tra la Guinza e Mercatello Ovest. La consegna dei lavori è fissata per il 25 agosto 2026. Oltre 900 giorni per un'opera in cui l'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli ha recuperato il progetto originario che fu coordinato a inizio anni 2000 dall'ingegnere Alberto Paccapelo della provincia. 12 febbraio, segniamoci questa data, sarà la data in cui verranno consegnati i lavori per l'apertura della Galleria della Guinza e per l'itinerario europeo che collega Fano con Grosseto. La Galleria della Guinza, un'opera chiave non solo per collegare i nostri mari, l'Adriatico e il Tirreno, ma un tassello fondamentale nei corridoi europei di trasporto che collegano la Turchia e i Balcani col porto di Ancona e i porti della penisola eberica. Di questo collegamento tra il porto di Livorno e il porto di Ancona non solo parlava, ma già progettava Napoleone nel 1806 e questo collegamento attraversava proprio il comune di Mercatello sul Metauro per arrivare a Fano e poi scendere fin verso Ancona. Sono trascorsi oltre 200 anni, di cui ultimi 50 passate ad ascoltare promesse che mai si sono realizzati. Oggi ci siamo, grazie alla giunta Acquaroli e al governo Meloni, sblocchiamo le Marche, sblocchiamo il centro Italia, sblocchiamo l'Italia. Ma attenzione, avremo anche dei problemi e delle difficoltà, ad esempio i problemi che ci stanno a cuore di quei cittadini che vedranno i lavori attraversare i propri territori. Staremo particolarmente attenti a quei lavori nel limite delle nostre possibilità, ma ancora una volta sottolineiamo come le difficoltà di oggi saranno le grandi opportunità di domani, le opportunità per l'economia delle Marche, del centro Italia e dell'Italia.